La partita con Samminato arriva in un momento sicuramente difficile per Montegatini che si ritrova al quarto ultimo posto con la salvezza diretta diventata ormai una chimera visto che Oleggio dista 6 punti con 5 partite a giocare. L'obiettivo quindi è giocarsela con Borgosesia e per giocarsela con Borgosesia con cui il sconto diretto è previsto domenica 31 marzo, il rosso-blu devono assolutamente battere Samminato. Non è sicuramente una sfida semplice, la squadra di Barsotti è quarta in classifica, ha un roster di tutto rispetto e già l'andata ha dimostrato di poter mettere in difficoltà Montegatini. Marzo-blu in casa riescono sempre a giocare partite di grande concretezza e di grande energia e stavolta dovranno veramente superarsi per battere la squadra di Federico Barsotti. Per l'occasione potrebbe rientrare anche Alessio Bolis che ha bruciato le tappe per il suo infortunio muscolare accusato durante la partita con Domodossola. Un rientro anticipato di due settimane per un giocatore che si ritrova sempre più a suo agio negli schemi di Ducottonfoni e la cui importanza si avverte soprattutto quando manca. Una partita molto complicata e in un momento per voi piuttosto complicato. Sì, sarà sicuramente una partita difficile, San Minato è un'ottima squadra che ha uno stile di gioco simile a Empoli che abbiamo affrontato scorsa settimana. Sì, sarà molto difficile ma dobbiamo assolutamente reagire in questo momento non semplice. Speriamo che con il fatto che siamo in casa, con il nostro pubblico, di riuscire a fare una buona partita. Cinque partite alla fine del suo genere regolare, l'obiettivo è giocarne una alla volta e poi alzare la testa e vedere che succede. Assolutamente, io personalmente inoltre non sono uno che guarda tanto la classifica perché comunque ogni settimana e l'obiettivo comunque non cambia nonostante la classifica. Bisogna giocare e bisogna provare a vincere con tutto quello che si ha. Quindi sì, in momento difficile o no, guardiamo una partita alla volta e pensiamo appunto una partita alla volta per vedere di vincerne il più possibile. Qual è secondo te la difficoltà principale della partita di domenica? Sicuramente la difficoltà principale sarà combattere contro l'aggressività di San Miniato che è comunque la caratteristica che li fa essere così in alto in classifica. Dobbiamo avere pazienza, dobbiamo difendere e in attacco essere equilibrati per non farli esaltare in contropiede.